E come ad ogni inizio di anno nuovo sono molte le aspettative e i buoni propositi, ma sul fronte crisi giunta del capoluogo a che punto siamo? Anno nuovo giunta rinnovata? I tempi sarebbero più che maturi, a sei mesi dalla frattura interna al governo della città, ma gli accordi non sono ancora così scontati. Lo scoglio che adesso parrebbe di dover affrontare ha un nome ed un cognome, Silvio Tosi. Un ostacolo difficilmente superabile perché nelle scorse ore sarebbe sceso in campo addirittura Riccardo Molinari, attuale presidente del gruppo Lega alla Camera dei Deputati, vice di Salvini e segretario regionale. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che abbia telefonato a Palazzo Ropa per blindare il nome dell'attuale assessore alle finanze di Biella. Due le certezze al momento. Fratelli d'Italia, dopo la sconfitta in provincia, ha alzato la posta e l'unico assessore che sarebbe sulla graticola è quello con delega al bilancio, Silvio Tosi. Ma andiamo per ordine. La mancata nomina della Delmastrina, sorella minore di Andrea Delmastro ed attuale sindaco di Rosazza, a capo dell'ente area vasta, ha incrinato inevitabilmente alcuni equilibri. Senza contare gli umori registrati negli ultimi due consigli comunali, dove per faccende importanti ma non così rilevanti è scoppiata la rissa verbale, ancora una volta tra Lega e militanti di Giorgia Meloni. Adesso le richieste sarebbero lievitate. Da una poltrona lasciata vacante e ingiunta con le dimissioni di Zappalà, ora i posti sarebbero 2-3. L'ipotesi che circola in queste ore sarebbe, e il condizionale rimane sempre d'obbligo, che l'attuale presidente del Consiglio di Biella, Marzio Oliviero, si trasferisse al timone delle opere pubbliche, mentre se Tosi lasciasse la poltrona al bilancio lo sostituirebbe subito a Medeo Paraggio, tra le fila di Fratelli d'Italia. Rimarrebbe quindi il posto di presidente delle sedute consigliari per Tosi. Ma pare proprio che lui non voglia cedere il passo. Avrebbe infatti deciso di non indietreggiare, spalleggiato da diversi esponenti Lega, tra cui il segretario regionale Molinari. Da Palazzo Europa tutto tace, ma le voci diventano sempre più insistenti.